Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menu stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale con le strada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi non ci lasci più. Ci trovi a Perugia, in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato, rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione Umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi, sinoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione Umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale garantita, sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con l'otto e super ennalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi. Dal 1964. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori del canale 11 di Teleradio Gubbio. Dopo la pausa, pausa tra virgolette, perché anche nel mese di agosto abbiamo realizzato parecchi servizi, soprattutto esterni, su varie discipline sportive, ciclismo, atletica leggera, soprattutto anche il campionato italiano di pattinaggio a rotelle. Abbiamo parlato di vari argomenti. Sicuramente gli argomenti estivi e gli estivi vertono su tre sport, che sono il tennis, ciclismo, atletica leggera, ma anche altre discipline sportive. Però soprattutto nel luglio e agosto, giugno e luglio e agosto, sono queste le discipline che vanno per la maggiore, soprattutto nella nostra regione. Riprendiamo con il ciclo del giovedì, che è appunto sport e società, dove trattiamo il tema, soprattutto il tema delle attività motorie, dello sport come servizio sociale. E il nostro intento è quello di stimolare non solo il dibattito, ma di cercare di stimolare anche le istituzioni a entrare ancora più nel merito di una situazione, che tra l'altro c'è una legge regionale sullo sport, specialmente sullo sport di cittadinanza, che speriamo piano piano venga tramutata sul piano pratico e che quindi vengono fatti gli investimenti, perché in effetti la scrittura teorica non l'abbiamo detto noi, ce l'hanno detto in parecchia molto bella. Però ecco, dopo la politica spesso scrive benissimo bellissime cose, poi per ragioni diverse non si riesce ad arrivare fino a un fondo. Comunque, noi riprendiamo questo ciclo di sport e società con un illustre personaggio della Regione Umbria, con Donatella Porzi, la professoressa Donatella Porzi, che è la Presidente del Consiglio regionale, quindi diciamo ripartiamo dal top dell'istituzione politica. E allora io tanto ringrazio subito Donatella per essere intervenuta alla nostra trasmissione. e la prima domanda ovviamente è quella che tanti magari ti faranno, tanti del mondo sportivo, come si può fare per migliorare lo sport in questa regione, migliorarlo nel senso delle strutture, delle strutture che vanno risistemate, insomma ci sono varie tematiche. e visto che non parliamo con una persona che è scevra dal conoscere lo sport, ma invece lo conosce molto bene, quindi credo che davvero stasera abbiamo una testimonia importante che ci può dare una mano a sviluppare anche il nostro dibattito. Prego Donatella. Grazie, intanto ringrazio per l'invito e per l'opportunità che ci viene data per parlare di un tema che come hai detto nell'introduzione a me sta molto a cuore. Il tema dello sport nella nostra regione. Il tema dello sport nella nostra regione è un tema che da una parte ci rende orgogliosi e in qualche maniera veramente soddisfatti per i livelli, per la qualità delle attività che vengono svolte a tutti i livelli. Se penso ai traguardi sportivi sul piano agonistico, le nostre squadre si stanno dimostrando in tante discipline veramente capaci di competere su piani nazionali e di avere dei risultati che sono straordinari. Ma siccome dello sport mi piace sempre anche sottolineare l'importanza del valore formativo, quindi guardo anche alla sfera della promozione e lo faccio con altrettanta soddisfazione perché il nostro movimento è un movimento che ci rende orgogliosi intanto della consapevolezza di quanto lo sport sia importante nella formazione, nella strutturazione della crescita dei nostri figli, dei nostri ragazzi, lo dico da insegnante, molto spesso abbiamo combattuto in anni passati per fare in qualche maniera diciamo così, equiparare e trovare un giusto riconoscimento alla nostra materia nei contesti scolastici. Oggi non abbiamo più bisogno di questa affermazione perché non c'è collega che non riconosca l'attività motoria, quindi all'educazione motoria prima, fisica dopo, ecco, quel valore al pari delle altre discipline. E logicamente nel momento in cui il movimento, la mole delle persone che praticano attività sportiva cresce, si evolve, eccetera, vengono fuori i problemi a cui accennavi nella tua introduzione, cioè la necessità di adeguare gli impianti sportivi e di avere spazi consoni, di avere personale qualificato, di strutturare le associazioni sportive dalla fase, diciamo così, del volontariato, della spontaneità con cui sono nate che hanno avuto una grande valenza nel dare l'avvio, diciamo, a un movimento che oggi quantificare diventa possibile forse al nostro presidente Ignozza che ha sotto i numeri e i dati, diciamo, aggiornati. Però anche di recente eravamo a commentare e a salutare i ragazzi delle varie federazioni che partecipano al torneo Kinder Rimini nella prossima metà del mese di settembre, beh, ecco, lì abbiamo visto una crescita esponenziale della nostra presenza, delle nostre, diciamo così, delegazioni, che partono da 5 discipline sportive per arrivare a 27. Ecco, questo ci dice quanto nel giro di pochissimi anni, perché parliamo di un lasso di tempo di 4 anni, quindi un tempo relativamente breve che ha visto, per esempio, nella fascia 10-14 anni aumentare il numero delle federazioni che hanno inteso partecipare a questo evento crescere in una maniera che veramente dimostra la solidità di un movimento, l'importanza di una realtà che conosciamo e che oggi ci preoccupa perché poi quando si passa dall'altra parte e si diventa amministratori il problema è quello di garantire a tutti le migliori condizioni per poter svolgere le attività. Quando si cresce nelle categorie bisogna adeguare gli spazi, bisogna adeguare le strutture anche per quanto riguarda l'accoglienza, ecco, del pubblico, delle varie, diciamo, discipline e tutto questo se da un punto di vista è un motivo di grande soddisfazione perché quando un movimento così massiccio assume queste proporzioni poi c'è l'altra faccia della medaglia che ci vede forse non nelle condizioni di rispondere a tutte le istanze. Ecco, il nostro rammarico può essere solo questo, quello di non essere, diciamo così, nelle disponibilità soprattutto economiche perché poi tutto questo si traduce in risorse economiche nel poter, diciamo, dare risposte all'adeguamento degli spazi e soprattutto alla possibilità di soddisfare tutte le istanze perché poi non parliamo e non pensiamo soltanto alla gara, al momento della competizione ufficiale. Certi obiettivi e certi risultati si ottengono solo con un lavoro metodico, costante, continuo, con allenamenti che necessitano di orari prolungati che si sovrappongono perché i ragazzi vanno a scuola e quindi i pomeriggi diventano veramente carichi di esigenze temporali che spesso trovano la difficoltà di trovare un loro, diciamo, spazio. Io credo che la difficoltà maggiore sia questa perché poi sotto il piano della formazione del parco tecnico e della dirigenza ecco, c'è stata una crescita, un'evoluzione che in qualche modo ho avuto il piacere anche di seguire nel ruolo che ho svolto all'interno del CONI, prima provinciale e poi adesso un pochino più defilata in quello regionale dove una serie di attività, una serie di corsi, una serie di, diciamo così, c'è stata un'accelerazione importante che ha portato veramente a sfornare tecnici molto preparati che riescono ad essere quell'elemento in più perché l'esperienza sportiva motoria sia un'esperienza estremamente qualificante adesso dico al di là del raggiungimento dei risultati sportivi che è qualcosa che ci sta comunque a cuore e che in qualche maniera fa parte della soddisfazione non soltanto degli amministratori, dei tecnici, dei dirigenti sportivi ma anche degli atleti che si sacrificano per ottenere dei risultati ma penso a tutto quello che c'è dietro perché nella sfera della formazione personale la differenza tra chi ha fatto un percorso sportivo è passato per una esperienza dove si è sperimentata la vittoria ma anche la sconfitta il misurarsi con difficoltà sempre maggiori il constatare la presenza di persone e diciamo no persone più capaci di noi ci mette nella condizione di capire che non siamo mai arrivati che ci sono sempre obiettivi più importanti per i quali impegnarsi sacrificarsi condurre una vita con uno stile adeguato sia sotto il profilo alimentare che delle abitudini quindi non si può pensare di passare la notte in giro e poi il giorno dopo di praticare una disciplina senza che questo possa essere in qualche maniera condizionato dall'esperienza poco magari diciamo così rispettosa di quelli che sono anche l'alternanza delle nostre esigenze fisiche ecco quindi tutta una serie di condizioni per cui se dovessi sintetizzare io credo che oggi per chi ricopre un ruolo da amministratore c'è il rammarico di non riuscire a soddisfare le tante richieste soprattutto in termini di spazi e di spazi adeguati per le necessità che si stanno moltiplicando e che sono il frutto di un lavoro serio capace delle varie federazioni sportive degli enti di promozione sportiva di tutto un movimento che merita il nostro rispetto la nostra attenzione e che dovrebbe trovare la giusta diciamo così corrispondenza delle risorse economiche per poter soddisfare prevalentemente i temi legati allo spazio allora dopo un'introduzione così dettagliata e davvero l'avevamo detto nella presentazione Donatella è un'esperta di sport perché ci ha un po' vissuto la sua vita e quindi adesso mettendo una relazione anche con il mondo istituzionale correttamente ha esposto alcune problematiche che poi noi però io credo che dovremmo prima o poi anche affrontare anche con vari aspetti istituzionali allora dopo un'esposizione così Domenico Ignozza Presidente del Coni è più facile intervenire no? Difficilissimo Difficilissimo Non è credo che dopo aver sentito la Presidente Porzi parlare così precisamente di quello che il movimento sportivo Umbro e il Presidente del Coni non possa dire più niente la Presidente Porzi ha detto precisamente quelle che sono le problematiche e le gioie e i dolori del mondo sportivo Umbro ha fatto una disamina ma non poteva essere altrimenti perché la Presidente Porzi continua a vivere dal di dentro il movimento sportivo quindi lo conosce benissimo e sa benissimo quali sono le nostre problematiche le nostre difficoltà quelle che sono le nostre aspettative la Presidente Porzi partecipa attivamente e di persona quindi si rende conto tocca con mano quello che questo movimento sportivo è in grado di produrre giornalmente passando dall'attività agonistica ad alto livello per finire all'attività promozionale per scendere nei particolari dell'attività motoria che credo che abbia bisogno ogni volta di essere ricordata perché tutti indistintamente tutti riconosciamo all'attività motoria la grande valenza che può avere nella crescita psicofisica dei nostri giovani ma ma c'è il rammarico della Presidente Porzi che ripeto questo mondo lo conosce bene lo tocca tutti i giorni con mano e quindi quel rammarico mi fa piacere la prima volta che sento la politica che si rammarica di non poter essere vicina al nostro movimento come io penso meritiamo che la politica ci fosse vicina non solamente impianti in questa trasmissione in queste trasmissioni più di una volta sono stato chiamato a mettere a nudo quelle che sono le necessità del nostro movimento non solamente impianti ma nella mia scaletta di priorità e non mi stancherò mai di dirlo al primo posto c'è la sicurezza degli impianti esistenti se vogliamo parlare di sport a tutti i livelli dai campionati del mondo che in questa regione si stanno susseguendo all'attività motoria di base e per questo intendo anche sin dalle scuole dell'infanzia perché troppo spesso dimentichiamo che forse dovremmo iniziare da là non si può prescindere dal dire che i nostri impianti hanno bisogno di essere messi in sicurezza abbiamo il dovere verso le famiglie che ci affidano i figli che l'affidano prima alle scuole e poi alle società sportive di dire che i figli vanno in un ambiente tranquillo sereno a norma allora se iniziamo da là sicuramente poi si potrà affrontare il discorso che chiaramente ci porterà a dire come questa regione primeggia e continuerà a primeggiare perché abbiamo già ormai in calendario grandi attività anche per i prossimi anni attività che necessariamente vengono ridotte anche perché la nostra impiantistica sportiva è sotto gli occhi di tutti non non abbiamo necessità di ritornare sull'argomento abbiamo però la necessità e mi rifaccio a quel rammarico così ben espresso dalla Presidente Porzi quando parliamo di attività motoria perché perché dai vari governi che si sono succeduti ai vari governi regionali a tutti noi che più di una volta ci siamo trovati a parlare di questo fatto tutti indistintamente abbiamo detto l'attività motoria l'attività motoria l'attività motoria grazie Presidente Porzi il suo rammarico è il mio rammarico perché perché quando penso agli sforzi che stiamo mettendo in atto per dare ai nostri giovani la possibilità di fare quell'attività motoria da tutti riconosciuta necessaria per la loro crescita psicofisica poi mi vado a scontrare con i numeri e i numeri purtroppo possono essere solo commentati ma in questo caso forse commentati negativamente perché e non amo fare paragoni con altre regioni non penso mai alla Lombardia come non penso alla Sicilia come non penso al Veneto ma mi fermo nei miei dintorni insomma non e allora mi fa piacere pensare piacere ma che nel frattempo è dolore pensare che l'Abruzzo per un progetto di attività motoria mette a disposizione del Comitato Olimpico io non li voglio non intendiamoci un milione di euro per fare attività motoria nelle prime e nelle seconde classi delle scuole primarie attività motoria è un progetto che poi va integrato con quello del CONI di sport e di classe che fa le quarte e le quinte e quindi nella regione Abruzzo riescono con uno sforzo forse capisco anche lo sforzo coprire una buona parte se non quasi la totalità della popolazione scolastica primaria con due progetti pubblici uno del CONI e uno della regione sono soldi pubblici non mi stancherò mai di dirlo che però vengono messi e fatti fruttare la regione Marche c'è qua vicino se urliamo il presidente delle Marche mi sente il presidente delle Marche ogni anno ha a disposizione circa 3 milioni di euro solo ed esclusivamente per l'attività motoria nelle scuole primarie coprono l'intero bacino di quelle che sono le esigenze da dove vengono perché mi sono informato anche su quello quelli dell'Abruzzo vengono dall'assessorato alla sanità che con il piano triennale di prevenzione di lotta all'obesità eccetera eccetera mette a disposizione un milione di euro quelle delle Marche vengono un po' dalla sanità un po' soprattutto da progetti europei da fondi europei allora allora se tutti e su questo tavolo credo che non ci sia uno che non sia d'accordo sull'importanza che assume l'attività motoria la nuova legge regionale sullo sport l'ha messo tra i punti fondamentali quindi credo che il legislatore e qua ne abbiamo chi ha seguito da vicino quella legge abbia riconosciuto appieno quelle che sono le esigenze dei nostri ragazzi rammarico rammarico perché ancora una volta quest'anno con l'inizio dell'anno scolastico inizieremo e proporremo alle scuole primarie ai dirigenti delle scuole primarie il progetto sport di classe andremo ancora una volta a favorire alcune classi alcuni segmenti dei nostri giovani a penalizzare gli altri perché non possiamo coprire la totalità questo sia chiaro e questo per me è il punto peggiore quello che non tutti potranno fruire di una cosa del genere e quindi andiamo a penalizzare sicuramente tanti tanti giovani e bisogna poi spiegare ai genitori perché andiamo a penalizzare una fetta della nostra popolazione giovanile dall'altra parte il rammarico è perché ormai ho i capelli bianchi ho sentito parlare di progetti nelle scuole primarie con la buona scuola e poi con altre leggi e poi con altre con altre con altre e ora forse qualcuno prende coscienza che l'attività motoria è un'attività da inserire nel curriculum della scuola primaria una volta fatto questo e una volta capito che ci sono i laureati in scienze motorie che sono gli unici che possono parlare di attività motoria di base forse abbiamo risolto i nostri problemi prima di far intervenire ovviamente la precedente io farei un giro tra i nostri ospiti che sono tutti ovviamente come diceva Domenico preparati anche nella materia in una casa abbiamo qui una delle massime istituzioni sportive nazionali perché il presidente Falcinelli è il presidente della federazione pugilistica europea non fa il presidente della federazione mondiale perché vuole smettere di fare il presidente ma quindi Franco è sicuramente però all'ilà di questo è una persona che con lo sport pratica impostato un po' anche la sua vita e quindi su questo ci può dire qualcosa no Franco all'ilà poi del progetto che sta portando avanti la Sissi ne parleremo in fine trasmissione poi ci ritorneremo perché è sicuramente un progetto di grossissimo livello prego Franco ma dopo la l'adotta lezione della presidente Porsi e dopo l'analisi così puntuale del presidente del CONI c'è poco da dire io vorrei solo limitarmi intanto a complimentarmi con con la regione dell'Umbria con gli estensori della nuova legge sullo sport che mi pare abbia voglia dare un impulso intanto alla qualità della pratica sportiva e ovviamente allargandola a tutte le fasce dei cittadini e poi riflettendo sui numeri come sottolineava il presidente del CONI io mi sento preoccupato di un aspetto cioè quello dei costi dello sport oggi per le famiglie noi dobbiamo attivare dalle istituzioni soprattutto presidente Porzi qualche intervento che in qualche modo pesi di mero sulle famiglie soprattutto quelle un po' meno agiate e dia la possibilità di una informazione polivalente della pratica sportiva e non la coazione a fare per forza uno sport che magari costi di meno oppure a fare lo sport che piace al genitore in ogni caso penso che una interrelazione tra le istituzioni il CONI le federazioni sportive e quindi le società di base possa sicuramente portare un grande beneficio a una regione che essendo poco più grande di un quartiere di Roma vanta veramente peculiarità incredibile sia dal punto di vista della qualità sia dal punto di vista della qualità delle infrastrutture sportive che giustamente come sosteneva il presidente del CONI vanno in qualche modo rivedute e corrette ma per questo ecco la competenza straordinaria della presidente del consiglio perché lei è una donna di sport a tutto tondo credo che possa unirsi alla grande intuizione che ha avuto il presidente della terza commissione professor Solinas nella individuazione di un nuovo iter legislativo per far sì che lo sport in Umbria continui ad essere un punto di riferimento è un vanto veramente per noi tutti Stefano Vinti che adesso ha fatto parte dell'istituzione della regione in Umbria per parecchi anni quindi conosce bene i meccanismi e credo che abbia affrontato credo anche lui in passato questo argomento sì è un argomento che mi ha appassionato che mi appassiona e penso che l'incontro della missione televisibile abbia un grande merito di mantenere alta l'attenzione in confronto e il dibattito su un argomento che nonostante l'apparenza in generale e cioè l'attività motore della popolazione e l'attività sportiva perché per fare questa l'attività motore e l'attività sportiva possono delle politiche perché senza senza la politica non si mette in modo il meccanismo allora gli interventi che mi hanno preceduto hanno indicato diverse questioni diverse modalità quindi stati di avanzamento della cultura sportiva della popolazione e anche della nostra terra e l'unica e la nostra città alcuni elementi che sono di criticità come la sicurezza degli impianti sportivi come la parziale interazione tra l'attività sportiva e la scuola o come i costi dell'attività sportiva questi sono alcuni degli aspetti perché i dati fondamentali ad oggi dell'ultima ricerca fatta sulla popolazione giovane dimostra che non sono in grado di fare una capovolta completa e corretta due ragazzi su tre questo è il punto che ci richiama ai stili di vita ci richiama a un'attività di educazione fisica e motoria nelle scuole di diversi ordini e grade veramente carente che ci richiama come era stato sollecitato anche prima dal presidente del CONI una impiantistica che sia adeguata questo è uno diciamo non è il punto ma è uno dei punti e le ultime ricerche ci danno dei dati veramente che sono per alcuni versi anche qui preoccupanti i nostri ragazzi che iniziano il leader della scuola media iniziano con un deficit rispetto agli altri studenti d'Europa della media d'Europa con un deficit di 500 ore di educazione fisica voi capite che con 500 ore di educazione fisica si possono correggere le posture creare le condizioni per non c'è bisogno che qui lo dica per insomma costruire una idea del tuo corpo della tua attività sportiva della tua iniziativa anche il rapporto non solo alla scuola ma al mondo che ci circonda questo dato è un dato che è l'inizio del deficit perché poi continua con le medie dove in Italia sono 66 ore e la media europea è di 100 ore dopo ci sono i superiori e poi e poi grossomodo si può dire che l'attività sportiva organizzata nelle università cessa no? perché fatta eccezione per rare alcuni casi diciamo cessa allora questo è un punto sul quale non bisogna io credo cessare la denuncia di questo nostro ritardo e sollecitare le istituzioni a far sì che in qualche misura questo gap venga sanato la regione dell'Umbra ci ha provato ma i dati che vengono sono c'è una sproporzione di risorse adesso come diceva il presidente del CONI tra quello che mette a disposizione la nostra regione e quello che mette a disposizione le marche e la bruzza ad esempio è quello che ho capito ecco qui è un problema di volontà politica che è frutto di un destino cinico e baro il fatto che interrompiamo certi progetti o non sono sufficientemente alimentati o implementati come allo stesso tempo se come diceva proprio nell'introduzione Pioppi è stata definita una nuova legge regionale ancora non mi risulta che sono stati stilati i regolamenti che ancora a bilancio abbiamo i spiccioli e queste sono scelte politiche non è che ripeto siamo vittime di un destino cinico e baro siamo vittime evidentemente di scelte politiche ma le scelte politiche possono essere anche corrette allora adesso passiamo ad Attilio Solinas che tra l'altro è tra virgolette il colpevole nel senso che è stato l'estensore della legge sullo sport legge tra l'altro che tranne qualche diciamo qualche pezzo di opposizione che poi sarà opposta per una situazione davvero nemmeno da dire che c'entra poco con la democrazia è stata invece accolta bene da tutti però Attilio adesso visto che c'è il Presidente della Terza Commissione t'occupi di sanità e la sanità nella legge specialmente nell'articolo 3 sport e cittadinanza la sanità viene richiamata più volte inviteremo anche l'assessore della sanità l'ho invitata altre volte ma adesso stavolta lo portiamo di forza alla trasmissione faccio una battuta ma è importante proprio avviare questo discorso e questa deve essere anche un po' una stagione importante poi con Donatella ne parleremo allora Attilio a che punto sta un po' la situazione questo dunque la legge è stata approvata un anno fa poco più di un anno fa una legge bipartisan quindi costruita scritta insieme anche alla minoranza votata da tutto il Consiglio regionale una legge nella quale si è sottolineata l'importanza anche non solo degli aspetti formativi per l'individuo dello sport formativi individuali e sociali in generale ma anche gli aspetti di beneficio per la salute ovviamente abbiamo voluto sottolineare in particolare questo discorso dello stile di vita quindi non solo l'attività motoria ma anche l'alimentazione sana i comportamenti sani rifuggire dalle dipendenze eccetera eccetera quindi tutto un contesto virtuoso nel quale il giovane il bambino deve vivere crescere e che comprende a pieno titolo l'attività motoria quindi l'attività motoria e lo sport ovviamente lo sport è il salto di qualità dell'attività motoria la promozione sportiva nelle scuole fa fare al ragazzo al bambino fa fare quel salto di qualità quella scelta che lo indirizza non solo all'attività motoria lo sport banale che si fa magari ma anche a qualcosa di più di agonistico quindi tutto concatenato e tutto un meccanismo virtuoso quindi nella legge noi l'abbiamo scritto in maniera precisa la questione qual è tu dici a che punto siamo adesso domani dopo domani in commissione discuteremo e auspicabilmente approveremo in presenza dell'assessore Barberini il regolamento per le palestre della salute comunque è un aspetto collaterale rispetto a quello di cui stiamo parlando quindi il regolamento della legge che è il regolamento attuativo la questione cruciale se ne parlava prima è quella delle risorse è ovvio che la volontà politica se l'amministrazione pubblica in generale non solo la regione ma tutti gli enti locali io tutte le volte che parlo con un sinn con un assessore ribadisco la questione lavorate sulle scuole pensate al stile di vita sano dei bambini perché c'è un ritorno in termini di investimento perché c'è un ritorno nella salute nel benessere nel ben vivere in generale anche economico perché pensiamo alle menze all'alimentazione sana unita all'attività motoria nelle benze scolastiche quindi tutti gli enti locali coinvolti nelle scelte politiche devono riflettere è stato detto prima sulla priorità assoluta delle politiche per le attività motoria perché se hanno a cuore le istituzioni amministrative le istituzioni politiche il bene dei cittadini devono ragionare sul fatto che l'attività motoria portata avanti sin dalla scuola primaria conduce a dei risultati a dei obiettivi virtuosi matematicamente si risparmia sulle malattie croniche si evitano l'obesità infantile per cui l'Umbria purtroppo ha un triste primato far crescere un bambino nell'attività motoria nello sport vuol dire abbiamo detto tante volte allontanarlo dai vizi dalla droga dal gioco adesso è un altro vizio che cresce il gioco le slot e tante altre cose brutte che avvengono quindi ecco è fondamentale ricavare adeguate risorse economiche la regione purtroppo in gran parte dipende dai trasformamenti dello Stato adesso io non voglio dire non voglio decolpevolizzare diciamo così tra virgolette cioè la regione ovviamente deve fare delle scelte in base alle disponibilità economiche che può gestire e quindi mettere di più negli impianti sportivi nella ristrutturazione nella messa in sicurezza offrire nuovi impianti dove c'è necessità non solo a un ritorno in termini di benessere ma anche a un ritorno turismo noi abbiamo voluto nella legge sottolineare l'integrazione fra i vari assessori c'è il discorso del turismo se noi facciamo una pista ciclabile al Trasimeno noi non facciamo il bene dei cittadini del Trasimeno che vanno in bicicletta e stanno meglio ma facciamo il bene dei turisti che arrivano turista che arriva a Passignano che ha una pista ciclabile che gli fa fare il giro del lago magari si ferma a mangiare i prodotti del lago ogni tanto con la bicicletta c'è una poi l'attrattività turistica delle gare sportive di alto livello quindi è tutto concatenato politiche giovanili politiche della sanità politica ecco quindi dicevo tornando al discorso e chiudo bisogna investire intanto in tutto auspichiamo che dal governo centrale arrivino più soldi più risorse ovviamente perché bisogna sperare che arrivino più soldi per gli impianti più soldi più risorse anche per i progetti perché noi nella legge abbiamo voluto sostenere promosso il sostegno economico ai progetti che fanno muovere gli anziani l'invecchiamento attivo i bambini nelle scuole servono strutture servono operatori validi preparati che vanno nelle scuole a far muovere i nostri bambini quindi ci vogliono risorse se le Marche e l'Abruzzo hanno più risorse ovviamente hanno saputo ricavarle evidentemente dai bilanci degli anni ma evidentemente i trasferimenti sono superiori perché l'Umbria ha trasferimenti minori evidentemente quindi l'auspicio è anche i fondi europei quindi bisogna fare di tutto per trovare le risorse e lo deve fare l'assessore della sanità lo deve fare l'assessore dello sport lo deve fare tutto tutta la politica si deve muovere puntando a questo obiettivo che è un obiettivo prioritario assolutamente prioritario per i motivi che abbiamo enunciato oggi perché ne va della salute ne va del benessere ne va della crescita sana dei nostri cittadini soprattutto dall'età infantile allora io credo che gli argomenti che ha iniziato nell'introduzione la Presidente Nolatela Porti sono stati ripresi e sviluppati quindi adesso restituisco la parola appunto alla Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria per riassegurare un po' tutto quello che è stato detto che è sicuramente importante importante per anche la civiltà di uno Stato di un popolo no? Bene le considerazioni che abbiamo ascoltato per le persone che sono a questo tavolo e che da anni diciamo si confrontano su questi temi sono diciamo considerazioni che ci spingono da tempo io mentre parlava Vinti appunto stavo ripensando a quei numeri e ricordavo tra le mie prime esperienze di giovani insegnanti di educazione fisica quando tra CONI e ISEF di Perugia mettemo in piedi nell'87 88 le prime esperienze da fare nella scuola dell'infanzia pionieristiche perché furono delle sperimentazioni furono delle diciamo forme anche per noi di studio di approfondimento su come lavorare sulla strutturazione degli schemi motori di base sull'attività su quell'alfabetizzazione motoria di cui tanto si parla e di cui si sente la mancanza perché prima veniva detto c'è un gap di ore ma se un ragazzino non riesce a fare una capovolta è un dramma se due su tre non fanno una capovolta ma guardiamo anche come spesso si muovono come camminano come si relazionano nello spazio qual è la posizione che occupano nel momento in cui entrano in un contesto sociale cioè sono bambini figli della nostra società che purtroppo spesso dal tempo scuola passano a spazi a posture molto statiche televisione computer poche relazioni un uso indiscriminato dei mezzi che oggi purtroppo ci stanno in qualche maniera creando delle grandi difficoltà ecco anche nella capacità relazionale tutto questo ha un costo e allora i numeri di domenico del presidente Ignozza ci preoccupano perché se facevo due conti dall'88 al 2018 sono passati 30 anni e ci stiamo ancora rammaricando utilizzo il verbo con cui ho ho iniziato questa riflessione perché sui dati non siamo assolutamente soddisfatti non siamo assolutamente soddisfatti il nostro impegno sarà quello deve essere quello di continuare a sensibilizzare a fare in modo che ci sia veramente una coscienza sempre più diffusa e sempre più forte su queste tematiche perché ne va veramente del bene della persona nella sua complessità poi può diventare il campione può smettere a 17 18 anni ma quando si è strutturata una cultura dello stare bene con se stessi quando si riesce a star bene con gli altri perché si è anche padroni un po' di quelle che possono essere le proprie conoscere se stessi è il primo grande traguardo che attraverso una motricità spontanea viene fuori i bambini non saltano più nei giardini non riescono più a saltare un fosso nella corsa nella diambulazione no quante volte abbiamo ravvisato queste difficoltà che sono le difficoltà di una vita troppo statica troppo no chiusa tra le mura domestiche scolastiche e che viene in qualche modo privata di quella motricità spontanea che diversamente si sviluppa sì in maniera spontanea ecco da qui poi tutta un'altra serie di considerazioni noi quando dico noi poi penso sempre alla grande famiglia del CONI con la quale appunto abbiamo fatto delle belle esperienze e con lo sforzo e il tentativo che le istituzioni ai diversi livelli comunque hanno provato a fare perché adesso non siamo soddisfatti e vorremmo arrivare agli obiettivi che prima ci venivano in qualche maniera indicati però abbiamo fatto anche tante esperienze positive io penso allo sport integrato di cui anche quest'estate è andata in scena una bella realtà dove mettiamo insieme soggetti diversi dove viviamo anche la presenza della diversità come un arricchimento soprattutto nello sport nello sperimentare nello sperimentarsi in situazioni fuori da quelle che sono la disciplina sportiva canonica ecco io dico che sì dal rammarico con cui ho iniziato vorrei continuare questa esperienza di insegnante di amministratore con la speranza che si possa sempre di più stimolare la nostra sensibilità quella delle amministrazioni con le quali collaboriamo quella dei tanti volontari che non smettono mai di spendersi per ottenere questi obiettivi obiettivi quella delle persone che hanno visto i benefici di una diciamo della strutturazione di percorsi virtuosi perché poi alla fine è un insieme di cose che si mischiano si fondono e danno così là a un'esperienza estremamente positiva e sollecitare il governo centrale perché ci sia veramente un aiuto serio che vada in questa direzione io l'ho sempre sottolineato la presenza dell'insegnante di educazione fisica nelle scuole primarie secondo me è fondamentale ma non deve essere lasciato alla capacità del presidente del CONI regionale che riesce a trovare le risorse per strutturare questi corsi per tutte le scuole dovrebbe essere proprio una presenza al pari di quello che avviene negli altri paesi dove questa presenza fa poi la differenza perché riesce a dare quegli stimoli in più per strutturare un corretto stile di vita che i ragazzi poi si portano dietro e che nella maturità una volta acquisito può essere comunque parte del proprio bagaglio ci si alza presto la mattina perché si sente la necessità di prepararsi anche fisicamente ognuno lo fa con la disciplina che più ma quando ce l'hai strutturata in testa questa cosa rimane e fa parte ormai di un'esperienza che magari cambia nel corso della vita perché si sperimentano altre cose ma l'abbiamo ormai interiorizzata l'abbiamo fatta parte di noi e dalle basi che dobbiamo partire e è lì che dobbiamo insistere perché sia il più capillare possibile e il più diffusa nel nostro territorio e qui io dico il nostro territorio regionale è fatto di tante realtà periferiche distanti nelle quali abbiamo visto quali sono le difficoltà di portare queste esperienze e forse quelli sono i luoghi nei quali queste esperienze hanno ancora più significato e ancora più diciamo necessità di essere perché la strutturazione di una società sportiva in un piccolo centro distante da altre realtà dove non ci sono i numeri per una massa critica che ci permetta di raggiungere quel minimo sindacale per svolgere un'attività sportiva rendono anche il tema ancora più urgente e questo è un'ulteriore riflessione su cui noi ci dovremmo muovere e lavorare quindi di carne al fuoco ne abbiamo tanta Allora noi stiamo proprio chiudendo la trasmissione che ho visto il domenico che stava prendendo appunti anche Franco un rapidissimo veramente 30 secondi se vuoi aggiungere qualcosa no no c'è poco veramente da aggiungere a quello che dice la Presidente Porzi il rammarico è che la Presidente Porzi mi ha ricordato che sono 30 anni che evidentemente in quei corridoi di via Martiri dei Legati purtroppo c'ero anche io in quei corridoi di via Martiri dei Legati stiamo mettendo in piedi progetti 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 voglio specificare utilizziamo soldi pubblici un progetto oggi un progetto domani un progetto dopodomani non danno i risultati che può avere un progetto a livello nazionale in cui tutti ci stiamo riconoscendo da 30 anni giustissimo io credo che ha detto domenico sia la sintesi perfetta cioè non 100.000 progetti questo sulle scuole però è un problema che va discusso anche non solo chi ha assessorati ma con i ministeri della scuola perché accolgono 100.000 progetti e quindi diventa difficile quello che ha detto domenico è perfetto l'abbiamo detto ripetuto anche volte altre volte anche noi tu che hai scritto qualcosa volevi dire qualcos'altro io volevo solo sottolineare appunto che lo sport nella scuola non può vivere di progetti saltuari è assurdo è una necessità di ordine ministeriale di concordare finalmente che le parole che diceva Solinas relativamente al benessere dei giovani ma anche al benessere per tutta la vita non può partire da questo impegno nelle scuole di attività motoria dove non sanno dove farla e parliamoci chiaro dobbiamo rivolgersi altrove altrove sono l'associazionismo sportivo di base per favore riprendiamo in considerazione che l'educazione motoria ma l'educazione allo sport avviene fortemente in quelle sedi in quelle sedi questo altri discorsi da sviluppare chiaramente l'impiantistica ma soprattutto Donatella proprio in ultima battura l'impiantistica sulle scuole le nostre scuole tante non sono notate di palestre soprattutto nelle scuole primarie di palestre per poter intervenire anche con chi ha ovviamente più competenze e qui la Presidente Porzi è stata precisa e netta e parla una che appunto insegna la sua vita la passata di insegnare nelle scuole quindi con un'esperienza ben precisa si è conclusa un'altra puntata di sport e società integrata all'interno di sport e incontri io voglio ricordarvi che davvero al di là che ci sono anche aspetti agonistici perché per esempio il giovedì viene dedicato e anche forse anche qualche altro giorno della settimana dipende un po' dai programmi nostri che non sono sempre precisi appunto perché le tematiche sono tante il venerdì per esempio si chiama un po' lo spazio dedicato al mondo dei codi del lume adesso lo dico alla Donatella che magari non è troppo informato ma le informiamo del lavoro che stiamo facendo e se tu ci puoi guardare però dalle 23 alle 24 ogni tanto fai un passaggio sul canale 11 ci insomma vedi un po' e per esempio lì abbiamo ospiti parecchie società con i ragazzini proprio per dimostrare che comunque c'è vita nel mondo dello sport e si possono fare parecchie cose poi il sabato grazie all'opera di Antonio Taccone e Stefano Vinti si parla questo sabato sarà ancora Franco Falcinelli un protagonista perché si parla di libri di libri soprattutto legati al mondo dello sport e di grandi sportivi questa volta parleranno di due pugili Sandro Mazzinghi che conoscono tutti in Italia non solo chi era chi del pugiato ma chi degli anni 60-70 faceva del pugiato una delle culture più belle dello sport in questo paese e di un altro pugile si chiama Rubin Carter che per altri motivi per altre situazioni sì prego Anto prego tu hai promesso che avremmo fatto un accenno alla grandissima opportunità che ha l'Umbria grazie al presidente Falcinelli di avere la federazione internazionale di pugilato ad Assisi quindi io farei un cenno a questa cosa l'ho accendata all'inizio e di fatti adesso ci chiediamo proprio la trasmissione perché Franco sta lavorando davvero alla grande e evidentemente le sue conoscenze le sue capacità di essere penetrato nel mondo dello sport di uno sport difficile all'apparenza però che invece sta coinvolgendo parecchio anche il pubblico femminile quindi sta andando bene di portare l'Umbria Assisi ma anche l'Umbria credo nel mondo per quanto riguarda un centro proprio mondiale del pugilato ci saranno convegni stage per tecnici per atleti e noi tra l'altro come sport incontri visto che siamo qui vicino siamo qui a Santa Maria degli Angeli spesso già siamo stati un paio di volte a riprendere le nazionali femminili e maschili dell'Inghilterra per esempio insieme a quella italiana però poi Franco l'obiettivo è quello di farle venire un po' tutti anche queste rappresentative qui abbiamo due esponenti importanti del Consiglio generale la Presidente Donatella Porzi e il Presidente della Terza Commissione Attilio Solinas quindi nelle prossime puntate ovviamente inviteremo anche gli altri assessorati che sono strettamente legati a questa cosa come trasmissione dovremmo anche fare un confronto l'abbiamo già fatto in un'altra situazione magari torna anche Donatella anche con le forze che non sono al governo nella regione ma adesso sono al governo nazionale perché siccome che è un argomento che interessa tutti se è vero che interessa tutti come diceva il Presidente Ignozza insomma qui qualcuno si dovrà pur muovere in maniera concreta io ringrazio appunto la Presidente del Consiglio regionale Donatella Porzi e speriamo di averla presto di nuovo con noi Franco Falcinelli che è il Presidente europeo della Federazione Pugilato Domenico Ignozza Presidente del Coni dell'Umbria Attilio Solinas Consigliere della Regione Umbria Presidente della Terza Commissione e Stefano Vinti che è diventato un po' il nostro opinion leader di questa opinion leader da sempre dice Donatella insomma esperienze passate nel mondo delle istituzioni della politica sono importanti e noi vi diamo appuntamento domani sera appunto nella serata diciamo così spazio al mondo del Coni avremo il tennis e l'atletica leggera quindi due sport con personaggi di atleti e tecnici anche di questo mondo i dirigenti e poi sabato appunto quello che vi ho annunciato prima i libri su Sandro Mazzinghi e Rubin Carter e parliamo di Pugilato grazie davvero tutte le sere sport e incontri dalle lunedì al sabato uno sforzo in mani dalle ore 23 alle 24 il canale l'11 la mattina dalle 10 il giorno successivo dalle 10 alle 11 sempre il canale 11 e il venerdì e tutti i giorni dalle 18 e 15 in poi sul canale 11 quindi ci vedete nel giro di meno di 24 ore tre volte per ogni trasmissione il che vuol dire che usciamo 18 volte alla settimana beh qualcosa speriamo di dare il nostro obiettivo ovviamente è quello di dare un contributo al mondo dello sport questo mi pare nettamente chiaro Rosso Pomodoro la migliore tradizione campana italiana a tavola un luogo ideale per ogni occasione spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni i nostri menù stagionali i prodotti slow food il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana anche senza glutine sono i nostri punti di forza Rosso Pomodoro garanzia della qualità al miglior prezzo presso il centro commerciale con le strada siamo aperti tutti i giorni fino alle 24 pasticceria etrusca da 40 anni al servizio dei nostri clienti tutto di nostra produzione bar gelateria tavola calda pranzi veloci aperto tutti i giorni festività comprese dalle 5 del mattino alle 22 pasticceria etrusca se ci assaggi non ci lasci più ci trovi a Perugia in via cortonese 1F di fronte alla sede della regione Umbre al Broletto pasticceria etrusca da 40 anni al servizio dei nostri clienti seguendo il sentiero che dalla basilica di Assisi si inoltra nel bosco di San Francesco incontriamo l'osteria del mulino dove i sapori della tradizione Umbra si fondono con la bellezza della natura prodotti freschi e fragranti a chilometro zero sapori decisi e seducenti piatti semplici ideali per assaporare gustose specialità all'osteria del mulino l'alchimia finale garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato l'alchimia finale l'alchimia finale l'alchimia finale l'alchimia finale e un servizio accurato. Rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie, parcheggio privato, ampio giardino, la tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo, oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con lotto e super ennalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964.